Hello guys, Renderna here e benvenuti in questo nuovo video qui sul mio canale Allora, come potete vedere, ho una chitarra giocattolo in mano Non mi farò vedere tranquilli, ho indossato il mio costume con le mani umane Così che posso insegnarvi qualcosa su questo fantastico gioco che secondo me è Guitar Hero Allora, prima di tutto, questi sono i tasti della nostra chitarra Sto utilizzando una chitarra di Guitar Hero 2, ve la faccio vedere Eccola qui, così, eccola Xbox ovviamente perché sto registrando su PC Ci mettiamo a fuoco Ok, con il simbolo di Xbox perché siamo su PC, dicevo Quindi nulla Allora, le chitarre che vi consiglio per giocare sono questa di Guitar Hero 2 Se ancora le trovate ma è praticamente impossibile Poi, la chitarra di Guitar Hero 3 La chitarra di Band Hero, quella rossa E la chitarra di Guitar Hero War Tour Keo Di Warriors of Rock Keo Che è, aspettate E' questa qui Eccola qui Vedete, i tasti sono cambiati, sono un pochino più larghi di questi Cioè, un bel po' più larghi di questi E la cosa molto importante è questa Questa barretta qua Adesso mettiamo a fuoco Vediamo se riesco a farvela vedere Dai, perfetto Ah, questo è Start Quindi non ci interessa Ma questo sarebbe Back O su PlayStation 3 Select Premendo questo Noi, giocando Attiveremo lo Start Power Che è praticamente un moltiplicatore di punti E giocando Verrà premuto con il pozzo Ed è molto, molto comodo Quindi E' la prima lezione che vi do Imparate a usare questo tasto Se avete una chitarra In cui riuscite a utilizzarlo Ok? Quindi quando dovete attivare lo Start Power Mai alzare la chitarra Ma premere questo Quindi Fatto vedere questa cosa Sulla chitarra Di Guitar Hero Of Rock Possiamo inquadrarci bene Ci rimettiamo a fuoco Così Perfetto E iniziamo Un pochino questo Questo tour Vediamo come va Questa prima puntata Di Guitar Hero Aspettate Sposto il microfono Così forse mi sentite meglio Mi dispiace se mi sentite un po' lontano Ma purtroppo Come dire I mezzi sono quelli che sono Non dispongo Di qualcosa Che mi faccia avere Il microfono ancora più vicino Per potervi parlare E per riprendere Appunto poi la telecamera Allora C'è la chitarra Allora Iniziamo con una cosa Molto stupida Io consiglio a tutti quanti L'utilizzo del trucco Ipervelocità Che alla fine Distanza le note L'una dall'altra Io lo utilizzo a 5 Ma Per voi sarà Fin troppo veloce Quindi Per questo video La abbasseremo a 3 Vi farò vedere Già In modalità esperto Anzi vi faccio vedere La differenza tra Velocità Senza ipervelocità E con l'ipervelocità Andiamo in training In pratica E iniziamo con Questa qui Una canzone a caso Facciamo esperto Branno completo Velocità normale Allora Toglierò l'audio Vedete queste canzoni Perché Se no Mi flaggano per copyright Quindi mi spiace Sentirete solamente La mia voce E il rumore Della chitarra Questa è la velocità Normale Che avremo In modalità Esperto Quindi Senza ipervelocità Senza nessun tipo Di trucco Senza nulla Questa è la velocità Base Adesso vi faccio vedere La differenza Con la velocità Che andremo Ad utilizzare In questi video È quella che solitamente Scusate Quella che solitamente Utilizzo io Allora Quella Era la velocità Base Questo è un'ipervelocità Per tre Quindi tre volte Quella velocità Praticamente E già È decisamente più veloce Vedete che è più veloce Ma le note Non sono in realtà Più veloce Sono solamente Distanziate l'una dall'altra Quindi Detto questo Rimaniamo Su Questo tipo Di ipervelocità E Iniziamo La vera e propria lezione Lezione base Allora Per la difficoltà facile Avremo da utilizzare I primi tre tasti Quindi verde Rosso Giallo Per la difficoltà media I primi quattro Per la difficoltà difficile Tutti e cinque tasti E Per la difficoltà Esperto Tutti e cinque tasti Ma con Delle tablature Per le Canzoni Ovviamente È più difficile Dell'esperto Ovviamente Utilizzare tutte e quattro le dita Se ne utilizzate tre Molte persone che conoscono Utilizzano solo tre Sforzatevi a usare il mignolo Perché è comunque un dito in più Allora Iniziamo con una cosa Semplice Semplice Una cosa che sbagliano tutti All'inizio Allora Andiamo in training Ci mettiamo in Qua Facciamo chitarra Facciamo facile Certo Proprio Alla difficoltà Proprio Basilare Vi consiglio tutti quanti Di iniziare da Difficoltà facile Perché Anche se la trovate Davvero facile E Vi fa prendere Familiarità Con il Con lo strumento Diciamo Con il controller Da gioco E vi troverete meglio Nelle prossime Nelle prossime Difficoltà Intanto io sto abbassando L'audio Perché sennò Sento un casino Ok Allora Qui vedete La canzone sta scorrendo Premendo i tasti Vedete che Vengono premuti Appunto Sullo schermo Ma le note Non vengono prese Perché Oltre a premere Un tasto Non vediamo il colore Sullo schermo Dobbiamo Premere questa Che è la pennata Allora Vediamo se io riesco A fare Tipo così Perfetto Ok Questa è la pennata Ok Perfetto Allora Questa va premuta Insieme a un tasto Se vi faccio vedere Mi sposto un pochino Così Ecco Vedete Così Premendo insieme Vanno Perfetto Fatto vedere questo Ci spostiamo un attimo Sulla pennata Metto così Vediamo se regge Sì Mettiamoci a fuoco Perfetto Allora Una cosa che dovete Imparare tutti Sin dall'inizio Premendo il tasto Eh beh Non penso ci voglia un'arte Per premere un tasto Quindi non mi soffermerò Più di tanto Sul premere il tasto Dovete Potete tenerlo premuto Ma la cosa importante È fare questo movimento Qui con la pennata Allora Adesso Facciamo così Prendiamo la pennata Con il pollice E l'indice Ok Io solitamente La prendo con il pollice E il medio Perché l'ho sviluppato Diciamo questa presa Questo grip Però il pollice E l'indice È la presa migliore Vedete Così Prendiamo Come se fosse un vero e proprio peletto Prendiamo la Barra Della pennata E iniziamo E iniziamo A fare questo movimento Su Giù Su Giù Giù Su Giù Su Così Perfetto Per tutte le note che capitano Perché questo? Perché andiamo a evitare questo movimento qui Che può essere comodo in alcune parti Delle canzoni Oppure solamente questo movimento qui Vedete Verso l'alto Può essere comodo In alcune parti delle canzoni Ma Questa Su Questa Petrata Alternata In su E in giù Ci sarà molto utile Nella Nelle sessioni di Modalità esperto Quindi se iniziamo ad utilizzarla Già dall'inizio Abbiamo sicuramente Un vantaggio Quando Andremo ad aumentare La difficoltà Ok Questa era la pennata Allora Ci spostiamo di nuovo con l'inquadratura Sui tasti Perfetto E Cambiamo Cosa avete sentito Era il rumore della serie Ragazzi Tranquilli Tranquilli Voglio fare questa cosa In presa diretta Proprio come se fosse Una Una lezione vera e proprio Di Di chitarra Anche se stiamo giocando A chitariero Allora Vi faccio vedere Un'altra cosa molto importante Adesso Fermi un attimo Training Sì Si selezionava dopo La difficoltà Allora Mettiamo questa canzone Qui la metto in aspetto Facciamo solo l'intro Vi faccio vedere Un'altra cosa Molto importante Che di solito Si fa nei tutorial avanzati Ma imparate a vedere A distinguere Questo tipo di note E E Sarete Sicuramente Avvantaggiati Allora Queste note Più Luminose Sono dette Hammer on O pull off In base al Al senso in cui sono Messe Se sono Ascendenti Sono hammer on Se sono discendenti Sono pull off Sì Perfetto Praticamente Ok Io non ho suonato Quindi state tranquilli Volevo solo farvi vedere Quel tipo di note Le rimettiamo E Cosa succede Hammer on e pull off Come sono proprio Sulla chitarra reale Possono essere presi Senza Senza la plettrata Cioè premendo solamente Il tasto Patto che La nota prima Sia stata presa Con Sia stata presa Esatto Quindi siamo in una serie Di combo Adesso vi faccio vedere Riniziamo Mi alzo un po' il volume Sperando di non fare Un mega fail Sto ancora Ancora calibrando Il sistema Quindi Non è perfetto Ok Ho failato Pesantemente Ma Ero un po' In una posizione Un po' scomoda Chiedo scusa Per la prossima Per il prossimo video Sarò sicuramente In In una posizione più comoda Cercherò una posizione più comoda Allora Quindi abbiamo visto Che in questo modo qui Possiamo prendere Molte note Anche difficoltà facile Perché ci sono anche Difficoltà facile In tutti i guitarino Possiamo prendere Molte note Solamente premendo i tasti Adesso Via Vi faccio vedere un'altra cosa Mi sono dimenticato Di far vedere all'inizio Andando in opzioni C'è Un'opzione appunto Che si chiama Calibra ritardo Allora Su console Se non mi sbaglio C'è solamente Calibra ritardo Che comprende Calibra ritardo audio E calibra ritardo video In un unico test Mentre Su pc Ci sono appunto Queste due Fazioni Ops Siamo Escolto il tempo Vabbè Due secondi Vi finisco Per spiegare Questa cosa E poi ci salutiamo Allora Calibra ritardo video Servirà Servirà appunto Per allineare Le note Con quello Che noi vediamo Effettivamente Sul televisore Quindi Provate Provate E provate Finchè non vi sembra Che premendo una nota Ci sia Il L'aggancio Ecco Perfetto Di quando La state Prendendo Stessa cosa Per l'audio Quando siete sicuri Che il video Sia a posto Fate semmai Calibro audio Senza video Cioè Il calibro video Senza audio Ok Quando mi sembra Che il video Sia a posto Attivate l'audio E cercate di mettere A sincrono Il video E l'audio Non lo farò Nel video Perché diventa difficile Anche perché Sto registrando Quindi Detto questo Fatemi sapere Se questa puntata Di Lesson Guitar Hero Non lo so Adesso vedrò Come chiamarla Vi è piaciuta Fatemi sapere Se Non lo so Volete altre puntate La continuerò Non la continuerò Ditemi dei consigli Ditemi cosa volete vedere Io intanto Chiudo qui La prima puntata Vi saluto E vi rimando Al prossimo video Enjoy E che la renna Sia con voi Bye